Cosa c'è? Cosa c'è? Quello lì deve restare a casa E il latte dov'è? Dov'è il latte? Come fai il cane? Come fai il cane? Come torrazzo Come fai il cane? E così fai il cane? Quasi, tra mezz'ora si sa Mi sarei molto propenso, visto che da me non bisogna mai stare Di andare in strada di casa e andare camminare Noo, briga La mia pista è ciclabile Che è che sei la attraverso Perché può stare in predazzo Potremmo stare anche domani Metti giù Ehi Si Mescola, mescola Famiglia Brighella Buongiorno Nooo Siamo in viaggio Stiamo andando a predazzo E dopo non sappiamo dove andiamo ancora Perché avevamo tutto un programma nostro che è scomparso E quindi ecco Giornata Boh Bello Bello sto vlog Vabbè Dopo Ci vediamo dopo Non so dove andiamo Che c'è là dietro Che c'è là dietro? Che c'è la dietro Che c'è la dietro Che c'è la salute Che c'è la dieta Che c'è la idea Che c'è la vita C'è la vita Ciao! Beh! 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 Guarda che dentone ti ha! È un cartone! È un cartone! Qua cosa vuoi? C'è dentro, Mami! non è un gatto è una pecorella è buona dormiamo divisi stanno ma che stai tutta intellettua un bacino le due d'amore e allora e allora ti metti seduto seduto cos'è che hai? andiamo dove? dove andiamo? alle cascate del miagara scatti in navarone dove andiamo? qui c'è l'acqua in navarone dove andiamo? mamma! 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 bene siamo appena rientrati da un giretto in centro e ho appena speso 80 euro di un paio di scarpe va bene posso vedere eccole qua cosa stai facendo? pronti adesso andiamo a cena mi hanno già abbandonato sono già scappati ho dovuto tenere i capelli legati perché non ho fatto in tempo a lavarli fa schifo però il trucco è carino via che vado grazie a tutti se te marcelo marcelo come succede? ciao e tu l'avevi mai cu cu se te sei un asino Sottotrovo qua in giro. Vedate. 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 Siamo separati. In casa. Che cazzo stai insieme? Sei separato. Abbiamo unito i letti, però tu sei più alto. L'ho unito io i letti in casa. Basta. Basta.